Eccoci amici, intanto buonasera Massimo Minutelli, la griglia di Varrone, abbiamo una serata molto particolare perché siamo a celebrare ovviamente un luogo iconico di Milano che ospita due eccellenze. Allora Massimo, dice le racconta, ce le tue. Allora, abbiamo José che rappresenta Gutray, io e diversi anni che lavoro con il loro gruppo, selezionano delle carni galiziane, quindi rubia caliega e anche portoghesi, meravigliose. Il signor Bettella con i suoi salumi, dove vogliamo qualcosa di italiano e loro sono un'eccellenza che abbiamo, in Italia dobbiamo essere orgogliosi. Allora Bettella, tu mi dicevi che siete passati da una produzione, diciamo, costriale, quasi industriale a una assolutamente artigianale, allevando solo mille maiali. Mentre prima ne allevavamo 12.000, vedi? Quindi, selezione, qualità? E soprattutto la qualità e soprattutto il benessere. Il benessere dell'animale. Immaginiamoci quell'animale che l'ha esposto, cioè nel 2016, quindi un animale che ha sette anni, che ha vissuto proprio, infatti lo si nota dal colore del grasso così arancione, è dovuto all'alimentazione e alla serenità. La qualità, da dove, da dove nasce, da onde nasce la qualità? La carità nace un animal criato come si criava antes, con solo maiz, cebada e trigo e con mucho cuidado. È un animal che ha stato durante siete anni comiendo exclusivamente in un pesebre, osea, ha sido cuidado con la máxima atención. E grazie a persone come Máximo, che voglio agradecer, e grazie a professionali come il, possiamo seguire nel campo con questi animali unici e exclusivi, in le piccine explotazioni. Ustedes seleccionano lo meglio di lo meglio. Lo meglio di lo meglio di da piccini produttori? Da piccini produttori. Nostro produttore si chiamano Gutray Galicia, e dentro di Gutray Galicia facendo la selezione che si chiamano Rosadouro. E dentro Rosadouro, Rosadouro Diamante, che è lo miglior, il top del top. Tanto produttore gallego come l'olto del porto. Allora, se non è il top del top, qua non entra. Allora, io ho assaggiato un prosciutto straordinario, ma dimmi altri due prodotti che non si devono mancare dalla vostra selezione. E lo facciamo assaggiare dopo. Dopo, infatti, uno sarà il Cotto di Gioia, brevettato da noi, e l'altro prodotto, la pancetta, abbiamo preso prima, la miglior pancetta d'Italia. Allora, Massimo, diciamolo, solo tu riesce a mettere insieme queste cose. Quindi, amici, non perdete una serata alla Briglia di Verrone, perché ne vale assolutamente la pena. Senti, quest'estate riapri... A Pietrasanta. Ecco qua, Pietrasanta. Aspettiamo al mare. Quando, quando? A brevissimo. A brevissimo. Grazie, Massimo, grazie a Pietro e grazie per te. A voi.